E' stato un pomeriggio lungo, un pomeriggio di tensione, un pomeriggio nel quale Roberto Maroni ha voluto mantenere quanto detto dal palco martedì scorso, il palco di Bergamo, laddove i militanti chiedevano a gran voce un provvedimento importante, decisivo, nei confronti della vicepresidente del Senato, Rosi Mauro, che peraltro aveva annunciato proprio quella sera di non volersi dimettere dal suo incarico in Senato. E oggi è avvenuta l'espulsione, un'espulsione che all'inizio si pensava poteva essere mediata con una sospensione in cambio della sua rinuncia alla vicepresidenza del Senato, ma così non è stato. All'unanimità è stata decisa la sua cacciata dalla Lega, per la verità Umberto Bossi in quel momento non era nell'aula quindi non ha votato, però i presenti all'unanimità hanno deciso che se ne doveva andare. Così come Francesco Belsito, per lui la posizione era più scontata, essendo peraltro indagato. Non è invece stata presa in considerazione, almeno non in questa seduta, la posizione di Renzo Bossi, la sua posizione verrà valutata in un'altra sede. È stata decisa anche la data del Congresso federale, si terrà il 29 e il 30 giugno.